Nell'ambito dell'altra stagione, arte e paesaggio nella Toscana del Sud, progetto di sviluppo del territorio alternativo al periodo dei grandi flussi, la Diocesi con l'organizzazione di opera civita propone quattro visite ai capolavori conservati nel Museo Diocesano di Cortona. La serie di visite tematiche mira a far conoscere e approfondire il patrimonio artistico del museo, dai capolavori alle opere meno note, dall'antichità al Medioevo e al Rinascimento fino all'epoca contemporanea. Dall'altra parte i dipinti della raccolta museale si intrecciano con le vicende storico-religiose del territorio cortonese e costituiscono percorsi atti a recuperare la memoria storica e di fede di una fiorente comunità. Quarto e ultimo appuntamento di questo ciclo è quello di sabato 22 febbraio alle 11. L'iniziativa è intitolata sulle tracce di Gino Severini, i cartoni del pittore futurista nel Museo Diocesano di Cortona. La data non è casuale. Si tratta infatti del giorno in cui la città etrusca celebra la sua patrona Santa Margherita, patrona a cui si affidò nel corso della Seconda Guerra Mondiale il vescovo Giuseppe Franciolini, che per aver preservato la città dalla distruzione decise di costruire in suo onore una monumentale via Crucis, che partendo da Porta Berarda, attraverso la quale la Santa entrò in Cortona, arrivasse fino alla basilica a lei dedicata. La tecnica del mosaico viene individuata come la più adatta allo scopo, armonia con l'ambiente, bellezza e durata. A chi poteva essere allora affidato l'incarico di realizzarla se non a un cortonese, Gino Severini, che proprio in questa tecnica si era fatto un nome. Un artista dalle alte capacità che vantava inoltre anche la frequentazione prima del gruppo Esprit di Mounier per l'avvento di un nuovo umanesimo cristiano e poi del filosofo e pedagogista Jacques Maritain. Severini immagina inizialmente di inserire in ogni stazione della via Crucis sul riferimento alla vita di Santa Margherita. Poi deciderà per un'altra soluzione. Le 14 tappe saranno precedute da una stazione che fa da introduzione a tutta la via Crucis. Vi sono rappresentati Cristo in croce e Santa Margherita in ginocchio, che a nome della città implora la protezione sul territorio cortonese. Severini riafferma così la categoria dell'arte a soggetto religioso, eliminando gli elementi di un realismo malinterpretato e le forzature manieristiche che nel tempo avevano stabilito il declino di questa forma di espressione e riconsidera, alla luce di un nuovo pensiero per l'oggi, le immagini della tradizione, riproponendo di esse solo quanto di eterno continua a vivere in queste immagini.